Oggi voglio farvi scoprire un nuovo modo per rappresentare le moltiplicazioni. Con lo spago ho costruito quattro righe orizzontali, sopra le quali andrò a sovrapporre tre righe verticali, sempre costruite con lo spago. Si è venuta così a formare una rete, come quella dei pescatori, dove le righe orizzontali incontrano le righe verticali in punti che si chiamano incroci. La prima riga orizzontale incontra le righe verticali in tre punti. Anche la seconda riga orizzontale incontra le righe verticali in tre punti. Ed infine la quarta. La moltiplicazione rappresentata per le righe sarà quattro per tre. Se non abbiamo materiale è facile rappresentare queste moltiplicazioni con gli incroci. Prendiamo il quaderno e procediamo ad eseguire. Disegna quattro righe orizzontali. Sopra a queste ora disegna cinque righe verticali. Ora negli incroci vai a disegnare i pallini d'incontro ed otterrai questa rappresentazione la cui moltiplicazione è quattro per cinque uguale venti.